Perché siete qua stasera? Siamo qua a sostenere questa manifestazione, a sostenere l'operato delle forze dell'ordine, a chiedere al governo più attenzione per la sicurezza, per rimettere il tema della sicurezza dell'ordine pubblico dei cittadini al centro dell'azione del governo. Questo è un governo che si è occupato più di immigrazione che di sicurezza, ha stanziato 4 miliardi di euro per garantire vita alloggio agli immigrati e non trova risorse per le forze di polizia. Siamo qui per difendere gli uomini e le dolli indivise che ogni giorno rischiano la vita per garantire la sicurezza dei cittadini. È una battaglia di democrazia, non è una battaglia di libertà, è una battaglia per garantire la dignità di chi, rischiando del proprio, garantisce la vita e la sicurezza dei cittadini del nostro paese.